Benvenuti su Dark Souls 3 Qui abbiamo un segno di evocazione di un certo Xirdra L'Ultadar Non ce la faremmo, è bruciato Però adesso noi vediamo Che la persona sudetta In realtà non è presente Il gioco Questa cosa non mi torna Adesso vi faremo vedere Una normalissima parte Dark Souls 3 Adesso mettiamo il set Sperando che Tutto vada liscio Cosa potrebbe mai andare storta Potrebbe forse andare storta Questa faccia senza texture Che c'era sotto il mio elmetto Ma no, ma non diciamo sciocchezza Questo gioco è privo di alcun difetto Noi aspettiamo Vedi il tuo segno Vediamo un po' C'è qualcosa di positivo Magari funziona bene Qualcuno ti evoca in un altro mondo Siamo ancora fermi Aspetta, forse ha funzionato Ha funzionato Dark Souls Ha funzionato Questa è un'impresa Che non mi aspettavo È incredibile Nessuno si aspettava Dopo tre volte che ha fallito È più inaspettato del bombardamento di Trump Maledizione Andiamo Guarda la mia spalla Come si glicia Anch'io la voglio questa spalla Perché tanto quello che conta È la velocità Aspetta, aspetta Aspetta Esatto Guardate che bel gioco Tripo di difetti Tripo di qualsiasi cosa criticabile Vieni che abbiamo il ciccione di turno Guarda il ciccione di turno Quanto danno ha fatto Ciccione di turno lo sto picchiando Ma non perde salute Qualcosa non va Ho fatto un bex No, no, lo stai togliando Tranquillo Ok, ho fatto un bex Aspetta che ce la parla Un po' Si è sminchiata la visuale Guarda Ammirate 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 Questo gioco Questo gioco Lo vendono a 60 euro Dite bene, signori Signori Cos'altro possiamo dire Il gioco parla da sé Non c'è altro da dire Si preme un tasto chiamato Alt Poi si preme un altro tasto chiamato F4 Ok, fin qui ci siamo Poi andiamo su Libreria Poi andiamo su Giochi del Tizio Che ci ha prestato Il nostro bellissimo gioco Poi clicchiamo qui Poi clicchiamo su destro E clicchiamo su Tizio Instale Poi clicchiamo su Elimito Sì Fa cagare questo gioco Ecco cazzo che ci gioco Ed ecco qui Un Dorsal Strait Completamente disinstallato Perfetto Almeno questo gioco Funziona Puoi skippare tutte queste cazzate Puoi premere qui E saltare questi titoli di coda inutili Qui non c'è Miyazaki Qui funziona Dopodichè Vai su Continua E sul tuo personaggio Di fiducia Aspettiamo il caricamento Ponto con l'Arda Un gioco che funziona Ed ecco a voi Un gioco che funziona In NG più 3 Mica come quella merda Di Dark Souls 2 Equifinguishers Equifinguishers Parfetto Perfetto